Durante una sessione di massaggi dove vede impegnata Manila a massaggiare Lucrezia e Baru a massaggiare Davide la stessa Manila imitando una voce orientale dice. Venile venile a fare massaggio qui dano i massaggi belli. Baru va su tutte le furie. Inizia a dire che Manila non doveva fare il verso alle persone cinesi perché meritano rispetto essendo scappate dal loro paese per trovare asilo in Italia. Manila non ci sta e replica che i cinesi sono bravi massaggiatori per questo ha fatto l'imitazione. Baru controbatte. Questo che hai fatto non va bene è un atteggiamento razzista. Poi la telecamera stacca la discussione mentre stava prendendo una brutta piega. Manila cade dal pero non credeva che Baru potesse aggredirla per un verso fatto per scherzo. Alfonso saprà fare chiarezza su questo argomento che qualche edizione fa avrebbe visto l'espulsione del concorrente. Canale YouTube Fabio Pecce